I due principi che si affrontarono in questa guerra furono dunque Francesco Maria della Rovere e Lorenzo de' Medici. Nell'anno 1517, tra i mesi di marzo e aprile, Mondolfo, terra allora annessa al Ducato di Urbino, fu assediata da Lorenzo de' Medici, nuovo Duca di Urbino e Capitano Generale della Chiesa. Il fatto si colloca nel contesto della guerra per il Ducato di Urbino.